Nel giorno del 76esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, nonostante le restrizioni imposte dalla lotta ai coronavirus, la regione toscana ricorda il 25 aprile partecipando alle celebrazioni della liberazione. A Cascina presente l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, insieme al sindaco Michelangelo Betti e all'ampi territoriale. Autorità e associazioni hanno deposto una corona in ricordo del sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la democrazia. Un 25 aprile che vuole riaffermare i principi fondati dalla Costituzione italiana. A proposito di questo, proprio pochi giorni fa abbiamo sottopresentato un protocollo per portare lo studio e l'approfondimento della Costituzione tra i banchi delle nostre scuole, perché crediamo che rivolgerci alle giovani generazioni, raccontare loro ciò che è stato perché non accada mai più la barbarie, l'orrore dell'olocausto, degli altri stermini, ma anche, soprattutto, rivendicare quei valori che affondano le radici nella lotta di liberazione, nella resistenza, come la stessa regione toscana affonda lì le proprie radici nell'antifascismo. Ma anche la memoria di ciò che è stato perché non accada più. Un monito per tutte le generazioni. Alle nuove generazioni dico che bisogna continuare ad essere partigiani. Cosa vuol dire essere partigiani oggi? Essere partigiani oggi bisogna, vuol dire, innanzitutto rifiutare ogni tipo di ricordo, di riferimento al fascismo e al nazismo e chiedere e conoscere l'applicazione della Costituzione. La nostra è una Costituzione antifascista che rifiuta la guerra e rifiuta gli odi in ogni sua forma. Grazie.